Ciao tifosi del Milan! Nel video di oggi, vi portiamo una notizia calda direttamente dal mercato dei trasferimenti, che promette di movimentare il nostro amato club nella finestra estiva. Siete pronti a scoprire chi potrebbe essere il prossimo a indossare la maglia rossonera? Allora, andiamo! Confermato dal rinomato giornalista Moretto sul suo canale YouTube, Pierre Emilio Ibjerg, attualmente al Tottenham, è ufficialmente nel mirino del Milan. Esatto, il centrocampista danese, noto per la sua forza, tecnica e visione di gioco, potrebbe essere in rotta verso San Siro. Con solo un anno rimasto nel suo contratto con gli Spurs, il Milan sta tenendo d'occhio e ha già iniziato a lavorare dietro le quinte. Ma attenzione, tifosi, sembra che questa telenovela si protrarrà fino ad agosto. Quindi, dovremo attendere un po' per vedere come si svilupperà questa trattativa. Ora voglio sapere da voi, come vedete l'arrivo possibile di Ibjerg al Milan? Pensate che sia il rinforzo di cui abbiamo bisogno per rafforzare il nostro centrocampo? Commentate qui sotto, non dimenticate di mettere mi piace al video e iscrivetevi al canale per non perdere nessun aggiornamento. Avanti Milan!